Nel campionato di eccellenza Campania, l'US Agropoli supera il Sant'Agnello al Guariglia e si avvicina prepotentemente alla vetta della classifica occupata dal San Marzano che supera la Scafatese con un roboante 5-0. La partita dei Delfini è perfetta, basti pensare alle zero parate effettuate da Pragliola in tutto l'arco della gara. La rete che sblocca il risultato arriva comunque a 10 minuti dal termine della prima frazione di gioco e la mette a segno Ieboa dopo una grande incursione di Costantino. Prima però i Delfini vanno vicini al vantaggio in più occasioni, soprattutto con Margiotta e Masocco, quest'ultimo senza dubbio il migliore in campo. Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia con i Delfini in pieno controllo delle operazioni. L'unica conclusione degli ospiti è dopo 5 minuti con Lauro ma il suo destro si perde alto. Il raddoppio invece è al dodicesimo con Masocco che dopo un'incursione personale batte dal limite dell'area Palumbo con un destro rasoterra. Sul finale Margiotta potrebbe arrotondare il punteggio ma Palumbo compie un miracolo su una diagonale di sinistro del capitano dei Delfini. Delfini che vedono la testa della classifica sorpassando la Scafatese e portandosi ad un solo punto dal San Marzano. Domenica prossima per la squadra di Mister Cianfrone impegno in trasferta contro la Virtus Cilento mentre tra due settimane si ritorna al Guariglia per la sfida casalinga contro il Salernum Baronissi.